Dalla schermata Homepage, l'utente ha la possibilità di lanciare direttamente, senza dover andare nell'apposite voci di menu, gli ETL e i report marcati come preferiti dalla gestione utenti. Per tutti gli utenti, ad esclusione di Admin, in apertura Client, l'applicazione si apre sulla schermata dell'homepage, se questa contiene delle impostazioni. Dalla sezione Job è possibile selezionare un passo delle ETL, precedentemente impostato per quello specifico utente, come preferito, tramite il flag Home dalla gestione utenti. Dopo aver scelto il passo delle ETL da lanciare, cliccando sull'apposito pulsante oppure su Esegui ETL dalle azioni documenti, verrà avviato il trasferimento dati. Cliccando sul pulsante Aggiorna, sarà possibile invece monitorare se l'ETL risulti in esecuzione. Al termine dell'ETL, dopo aver cliccato su Aggiorna, nel campo Stato del job comparirà la dicitura Terminato. Dalla sezione Interrogazione è possibile scegliere quale report preferito lanciare. È possibile selezionarne uno o più di uno. Cliccando quindi sull'apposito pulsante oppure su Esegui interrogazione, verranno aperti i report selezionati. Dalla sezione Drillacross è possibile infine scegliere quale Drillacross preferiti lanciare. Per decidere se un job, un'interrogazione oppure un Drillacross debbano essere visualizzati nell'home page, devono essere inclusi nei dettagli della gestione utenti per quello specifico utente. È solamente l'utente admin che dispone dei permessi per indicare se, ad esempio, un job debba essere incluso o meno nella home page.